bella raga ciao a tutti dal comendone veneziano raffico potete vedere non ho più il berbera nel senso non ho fatto l'ultimo aggiornamento e con l'ultimo aggiornamento ne ho messo lo stato del civile al posto del nostro insomma veramente mi ha fatto girare abbastanza di coglioni sta cosa comunque siamo qua perché dopo le grandi vittorie con la master voglio capire cosa fare ragazzi le squadre che mi hanno offerto una panchina sono queste che onestamente non mi sembrano proprio squadre meravigliose alla fioi che faccio l'unica squadra che mi ispira tra virgolette river plate nel senso di diventare un'avventura in sud america però sono sincero non sono molto gasato e voli stare al palermo non lo so vero che in champions però sono un po' deciso se continuare la carriera con il palermo o cominciare non diventa un mito cioè di cominciare di nuovo in maniera più seria non lo so se non poi ci aspetto commenti da voi e io le vorrei fare in live il problema dei live che d'estate mi è un po più difficile farli rispetto all'inverno quindi adesso vediamo insomma comunque aspetto anche vostre opinioni al riguardo per capire cosa fare se volete comunque continuare se deve continuare l'avventura del palermo non c'è nessun problema è che dopo aver vinto tanto se vi è piaciuto avere un offerto di una squadra di champions ma purtroppo non c'è e niente adesso purtroppo siamo anche senza il renzo barbero vabbè raga un saluto del kumendone veneziano aspetto tanti e tanti commenti per capire che fare con pesce se andare su diventa un mito continuare la master andare a livello plate andare al gamba osaka che è una grande squadra giapponese o non lo so raga un saluto del kumendone veneziano ciao 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 ciao